Oh, questo reggaeton quanto è difficile da mixare! Ero Sanepi! Non è regolare, quindi... Vai! Sempre a metà, Super Sanepi con Super DJ Master Max for Busy School! Avete visto? Abbiamo cambiato la gasolina a metà, in quel punto è spasata di come contiamo noi, di due, quindi di una battuta, quindi siamo andati alla battuta dopo, ok? L'abbiamo mixato lì, riguardate il video, perché la canzone in questo caso non è regolare, e questa neanche, perché sì è regolare, ma anche una noce a medellin di Chris MJ, come si chiama Chris MJ? Chris MJ, come mi ricordo, aspetta, info, Chris MJ, Chris MJ, esatto, giusto, Chris Michael Jackson. Comunque è sfasato secondo i nostri canonici, quando li contiamo i sedici, che contiamo noi facendo uno, ciak, due, ciak, questo non ne ha sedici, ne ha solo otto, quindi siamo entrati come ha fatto egregiamente Semi-P, sto cercando di tirare in là perché il video è troppo corto, comunque no, vai, scherziamo, ok, egregiamente Semi-P l'ha fatto alla grande. Corso per DJ, Pomo G's School, Master Max, Semi-P, con un po' di reggaeton, vi assicuro il tanto bistrattato reggaeton, che molti dicono, brutto, mica brutto, quello che è, ci mancherebbe, è molto difficile da mixare, come la trap, quindi un DJ vero, come dicono tutti, DJ vero, deve essere in grado di mixare anche il reggaeton, due minuti di video, due minuti a zero due, ok, ciao a tutti, un saluto agli amici e soprattutto agli amici, vediamo sempre, super, ciao, 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 ciao.